Buonasera e benvenuti alla sesta puntata di Basilicata Sport. Iniziamo parlando di calcio a 5, vedendo i risultati della decima giornata del campionato di C2 e Girone B. La classifica. Real Maratea 24, Progetto Tito a 22, Aurora Tursi a 21, Menefuzzo la 19, Treppiva al Noce a 18, Castrum Baianelli a 15, Cirigliano e Bangone a 12, Nemoli a 9, Dinamo Vigiano a 9, Lions a 9, chiudono amici di Via Roma e Stat a 3 punti. La Treppiva al Noce torna a vincere dopo due partite senza punti. Il servizio di Domenico Cantisani. Partita senza storia, quella che si è disputata al campetto di balla con i lupi di Trecchina, che ha visto i padroni di casa vincere facilmente sul Cirigliano. La partita inizia bene per la Treppi, che dopo un quarto d'ora è già avanti di 5 reti e per il resto dal primo tempo controlla la partita. Nel secondo tempo piccola reazione del Cirigliano, che fa 3 gol, ma la Treppi non ci sta e ne fa altri 5, anche grazie a una doppietta di Sandino Agrelli e a una tripletta di Giuseppe Maimone. La partita si conclude sul 10-3, un deggio che serve alla Treppi per restare ai vertici della classifica. Il Real Maratea dimentica subito Cirigliano e batte in casa il Castrumbayanelli. Il servizio di Rosario Limungi. Sabato 11 dicembre all'Itricos di Maratea è ancora Real. La capolista riprende la sua marcia non senza difficoltà. Il Castrumbayanelli infatti arriva al match pronto e combatto. Parte bene e dopo 10 minuti è in vantaggio per 1-0. La classe però il Maratea ce l'ha nel DNA e dopo aver pareggiato passa avanti e chiude il primo tempo in vantaggio. Dopo il cambio campo il Maratea continua a soffrire, mentre il Castrumbayanelli prende in mano il pallino del gioco. I gol però non arrivano. A questo punto i padroni di casa realizzano altri 3 gol, concludendo la partita sul 5-2. Risultato un po' bugiardo, ma quello che conta sono i 3 punti. Il Maratea, fatta eccezione per l'ultima trasferta di Cirigliano, non ha sbagliato un colpo ed è ora solitario in vetta con 24 punti. Nell'altro girone, Amici del Borgo sempre in vetta, a quota 27 punti, seguiti dal team Matera a 23. Chiude il Genzano ancora con un punto. Veniamo ora al calcio, guardando i risultati della 14esima giornata della seconda divisione. La classifica. In 0 e D, giornata amara per le Lucane. Pisticci e Frangavilla vengono sconvitte entrambe in casa, ma guardiamo gli altri risultati. La classifica. In eccellenza, l'Angelo Cristofaro mantiene saldo il primo posto, con 30 punti, seguito dal comprensorio Tanagro a 26, ultimo il Miglionica a 10 punti. In promozione, pareggio casalingo per il La Soccer Lago Negro. Vediamo i risultati. La classifica. Atletico Scanzano primo a 43, Atletico Potenza a 40, Bernalda a 27, Cangellara a 25, Sporting Pignola a 22, Real Irsina a 20, Pesco Pagano, Sandarcangiolese e Balvana a 19, Grottole a 18, Rotondella e Tursi a 17, Lago Negro e Mondescaglioso a 12, Berle e Vari su Smatera a 11. In promozione, importante vittoria per il Latronico che si aggiudica il big match, battendo in casa il Grassano per 2 a 1, avvicinandolo così in classifica. Diamo ora uno sguardo agli altri risultati. Pomarico a 30, Villadagri a 26, Valsini a 21, Sporting Lauria a 20, Satriano e Tricarico a 19, Roccanova a 18, Invicti a Burgenzi a 14, Salandra a 13, Sporting Chiaromonte a 12, Real Grumento a 11, Sporting Francavilla a 10, Metanauto a 6 e Accettura ultimo a 5. In seconda categoria, sconvitta esterna per il Nemus, che a Episcopia viene battuto per 3 a 0 dal fratelli Cafaro. Apriamo ora una parentesi sul campionato Juniors Lucano. Abbiamo seguito la partita Socher-Lago Negro-Policoro che si è disputata lunedì al Comunale di Trecchina. Il servizio di Francesco Di Lascio. Al campo sportivo di Trecchina si sono affrontate il Socher-Lago Negro e il Policoro, in un match valido per la quinta giornata del campionato Juniors. Avversari subito in vandaggio, con una bellissima azione personale del loro capitano. Lo stesso capitano mette in area un grosso sul quale piomba decisivo l'attaccante. I patroni di casa fanno sentire la loro presenza e con Cristian Nasta cercano di riaprire la partita. Quasi allo scadere del primo tempo, però, Davide Castaldo firma un otto gol che demoralizza la squadra. Nel secondo tempo, però, si vede un altro Socher-Lago Negro e con due gol di Cristian Nasta il parigi è raggiunto. La partita si conclude così sul 3-3. Una curiosità da evidenziare. Il Policoro non aveva alcuna riserva. Chiudiamo ora con il calcio e passiamo al volley. Nella B2 maschile la Nicodemo Lauria ritorna a vincere e batte in gas per 3-0 il Mondo Giovani Messina. Ma vediamo ora gli altri risultati. Nicodemo Lauria, Mondo Giovani Messina, 3-0. Amatori Potenza, Geki Paola, 0-3. New Image Jarre, Algoritmi, 1-3. Punto Casa Messina, Poiatti Ragusa, 1-3. Vipo Valencia, Sidele Lago Negro, 3-2. Catanzaro Trapani, 2-3. Riposa, Publiemme Gruppe Pizzo. La classifica. Arrivederci al prossimo appuntamento con Basilicata Sport.